Va bene, sono arrivate però in studio Marta Perego e Valeria Locati. Buongiorno, come state? Buongiorno. Ciao Marta, ti vedo rilassatissima, ti vedo bella rilassata, bella serena. Ho dormito. Parlo con lei perché la conosco, so che ha un bambino piccolo, però ha dormito. Non so la tua condizione. Io dormo, tranquilla. Tu dormi, bella serena, non hai bisogno di niente. Allora, sono qui in studio perché hanno fatto questo libro, hanno scritto questo libro che si intitola ma la verità è che non ti piaci abbastanza. Ridefinire l'amore a partire da noi. Diamo velocemente i ruoli che poi vi hanno portato a scrivere questo libro. Marta, come ti definiresti? Perché tu fai un sacco di cose. La domanda è difficilissima. Faccio la giornalista, parlo su Instagram di libri, insomma faccio queste cose qua. E hai avuto esperienze. Ho avuto delle esperienze. Valeria invece, psicoterapeuta, hai avuto delle esperienze anche tu? Beh, direi di sì. Sì, perfetto. Le avete messe, avete messo proprio le vostre, siete partite dalle vostre? O Marta ha messo le sue e tu le hai psicanalizzate? Bravo, io sono partita dalla parte professionale. Ah, ok. Mi schermo così. Batman e Robin. Ok, gli hai dato una mano. Quella che non ha dato peso alla privacy sono stati... Esatto. La domanda era esattamente questa. I cazzi di chi ci sono in questo libro? Di Marta? Certo. Di Marta, ok, perfetto. Ridefinire l'amore a partire da noi. Partiamo proprio dalla necessità di ridefinire l'amore. Va ridefinito? È già stato ridefinito e semplicemente dobbiamo rendercene conto? Che cosa succede con l'amore? Che domandona. Che cosa succede? Succede che a un certo punto ti svegli la mattina e capisci di non averci capito niente. Almeno così a me mi è successo. Avevo 35 anni e all'ennesima storia è andata male. Ho detto, vabbè, ma qui devo un po' rifare tutto da capo. Sì. E quindi mi sono fatto una serie di domande, no? Che cos'è l'amore? Che cosa sono le relazioni? A un certo punto c'è un capitolo che è... Sono domande pericolose. Difficilissime. Soprattutto quando vuoi trovare una risposta a queste domande, no? Sì, ma poi la risposta è forse che non devi trovare una risposta, no? Cioè questo ridefinire l'amore a partire da noi è che poi ognuno ha un po' la sua definizione d'amore, no? E quindi, sai, guardando la mia storia, guardando le storie dei miei amici, c'è un capitolo che è l'amore ai tempi dell'aperitivo, no? Sembra quasi che ormai le relazioni, no? Sono sempre più difficili, no? Da realizzare. E quindi mi sono fatto una serie di domande, ma è un problema di oggi, è un problema che c'è sempre stato. Cioè l'amore è veramente... È un problema geografico anche? Cioè la città influisce? Io ho messo un po' di sì. Cioè non lo so, forse sì, forse no. Cioè a Milano è più difficile coltivare una storia d'amore rispetto ad altre città, rispetto alla provincia? Non lo so, io ho fatto queste riflessioni non tanto sull'amore, quanto sui figli, perché a un certo punto mi sono reso conto che tutti i miei amici della provincia coetanei avevano figli, tutti i miei amici milanesi della mia età non avevano assolutamente figli, perché Milano è questo gigantesco specchietto per le allodole, per cui ogni giorno della tua vita tu dici, oggi è andata così, ma domani potrebbe andare meglio. E domani potrebbe andare meglio. E vivi in questa attesa costante che arrivi quello che tu sogni, che poi non arriva mai. Questa è la teoria del mio amico Paolo dell'università, che dice che il problema di Milano, ma è la stessa anche di una super sociologa che si chiama Eva Illuz, che dice che il problema delle grandi città è che c'è questo mercato matrimoniale, lei lo chiama così, che è molto intasato, cioè siamo in troppi, e nel momento in cui tu entri in un supermercato e hai questa scelta infinita, poi alla fine diventa difficile scegliere. Quindi lo stato delle cose è un po' così, no? Se poi lo dice una super sociologa... Ah, quindi c'è il problema adesso che è difficile scegliere, un po' come su Netflix quando hai talmente tanti titoli che non sai cosa scegliere? Sì, forse è un problema di aspettative più che altro. Cioè che cosa desideri, cosa vuoi, cosa ti aspetti, che cosa ti immagini che poi possa farti stare bene. Perché poi è una questione anche un po' di da dove partiamo e da dove vogliamo andare quando scegliamo l'altro. Perché arriviamo con tutto il nostro carico, ci immaginiamo appunto in una città di trovare chissà che cosa, di trovare l'amore della vita, poi però se non sappiamo da dove stiamo partendo e che cosa desideriamo, la frustrazione è proprio dietro l'angolo. Ed è un po' quello che abbiamo cercato di fare all'interno di questo libro, cercare di cogliere anche un po' quelli che sono gli inghippi delle storie personali che poi sfociano invece nella ricerca dell'altro. Io adesso non vorrei fare... Una delle cose che odio di più sono le statistiche del quartierino, no? Cioè quelli che fanno una statistica come se fosse mondiale ma basandosi sul proprio condominio, no? Cioè nel mio condominio tre persone fanno così, quindi tutto il mondo fa così. Però parlando con le persone che frequento, il problema che loro mi portano è quello di appunto aver aspettato la cosa giusta, no ma forse ne incontrerò uno migliore, forse appunto mai soddisfare le aspettative e poi si ritrovano completamente di colpo a dire porca misera, non c'è più nessuno. Sì, che è un po' quello che è successo a me, però il tema è forse smettere di aspettare questa cosa giusta, ribaltare lo sguardo invece che continuare a guardare fuori e dare la colpa a chi sta fuori, guardarsi un po', guardarsi un po' dentro, no? Guardarsi un po' dentro. Capire che cosa vuoi davvero. Adesso andiamo avanti a parlarne, il titolo è La verità che non ti piace abbastanza, citazione di un film, la verità è che non gli piace abbastanza. Per me, a livello di fantascienza, lo metto vicino a Star Wars, quel film lì. Walter mi diceva prima, io non l'ho mai visto, ma vai avanti così, non ti far distrarre. Mettiamo una canzone e poi torniamo a parlare di amore. Deda Fabri Fibra, Universo su Radio DJ. La verità è che non ti piace abbastanza, Marta Perego e Valeria Locati sono qui con noi, è uscito da un mesetto abbondante, quasi due, quasi due ormai. Stavamo prima cogliendo la citazione di questo film, un film femminile, film femminile. Beh, sì, oddio, film femminile, adesso non usare questi termini. Beh, nella misura in cui Sex and the City è un telefilm femminile. Beh, sì, allora, se la vuoi mettere così, però è un po' per tutti, diciamo. Cioè, te la vuole un po' spiegare sull'amore. Sì, è uscito nel 2009, era quel periodo. Cioè, un po' per tutti, perché adesso bisogna dire così, perché io, di miei amici maschi che hanno guardato Sex and the City, non ne conosco nessuno. Nessuno, nessuno. Ma parla alle donne. Parla alle donne, parla principalmente alle donne. Infatti io l'ho trovato un po' fantascientifico, perché è sempre con le statistiche di quartierino. La verità è che non gli piace abbastanza. Il tema del film era che se un uomo non ti chiama è perché non gli piace abbastanza. In realtà un uomo, finché vede uno spiraglio, ti chiama sempre. Sempre. Ti chiama sempre. È per quello che lo trovavo un po' fantascienza. Questo libro parla a tutti? Questo libro sì, vuole parlare. Ma principalmente c'è una gonnellina che poi non vuol dire niente perché anche le gonnelline ormai parlano a tutti e va benissimo così. Però è un po' femminile. Cioè mondo femminile. Ma sì, ma forse perché le donne, se vogliamo proprio dirla così, si fanno un po' più di domande, no? Sì, si interrogano un po' di più. Si interrogano un po' di più. Arrivano a un punto della vita in cui dicono ma forse devo un po' ripartire, no? Devo un po' ricominciare e appunto provare a ridefinire. E tu dicivi prima che ci hai messo dentro esperienze tue e insomma hai abbandonato la privacy. Cos'è andato storto fino a quei 35 anni di cui ci parlavi prima? Oddio, domanda psicanalitica. ne ho già parlato con la Locati. No, è che quella cosa che dicevo prima che forse guardavo un po' troppo fuori. Cioè guardavo un po' troppo a quei modelli che sono un po' l'idea di trovare la persona giusta e di doverti sposare. Quest'idea che la felicità stia per forza nella coppia, no? Sì. Però non è proprio così. Cioè la felicità può stare anche dentro noi stessi, no? Ah, oio. Sì, sì, sì. Può stare benissimo, no? Anche da soli. Sai, io penso che viviamo un periodo che è difficile dal punto di vista delle relazioni. Però è anche super emozionante perché tutti questi modelli sono un po' decaduti. Cioè tu puoi esistere anche se non ti sposi o se non stai con qualcuno. Il grosso problema è che ognuno deve un po' diventare il modello di se stesso, no? E quindi diventare il modello di se stesso e provare a capire come fare a stare bene è sempre un po' difficile. È un po' difficile. Che consigli si danno in questo caso? Si agevola questa consapevolezza? Sì, soprattutto l'idea di non fossilizzarsi sul o da soli o in coppia come se fosse un'alternativa perché poi ci sono anche persone che da soli non vogliono stare ma non significa che stiano male o che in qualche modo non sappiano, no? Poter provare delle emozioni o poter anche capire cosa desiderano. Però c'è un po' questa idea che se si è da soli si è poco amabili si è un po' così alatere rispetto alla società. Tornando al discorso di prima della città sei un figo se stai da solo però poi perché non stai con qualcuno? Vuol dire che c'è qualcosa che non va. Vuol dire che sei un 25% di psicopatia allora si vede che c'è. Esattamente quindi l'idea è proprio questa cioè riscoprire ridefinire il proprio amore però anche senza andare con questi stereotipi così limitati. Certo, certo allora adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità ho visto che nel libro poi sono citate anche tutte queste nuove paure psicosi disagi come si definiscono? Il ghosting l'orbiting anche un po' delle scelte lessicali su cui poi forse vale la pena mettere l'amore tossico che ama molto l'amore tossico l'amore tossico che un tempo erano storie che magari non vanno tanto bene adesso gli abbiamo dovuto dare un nome nel momento in cui tu dai un nome a un problema lo iper semplifichi e tutti sono convinti di avercelo secondo me e quando dico tutti intendo gli influencer di solito però ne parleremo dopo la pubblicità tra poco It's My Life canzone che potrebbe anche essere un po' a tema con la puntata di oggi ci sono Marta Perego e Valeria Locati con La Verità è che non ti piace abbastanza un libro per tutti un libro uniseg no no non sto guarda che non è che sto cercando di recuperare ci stai dicendo benissimo ci siamo fermati prima tra l'altro se avete domande 347 342 5220 sull'amore prima della pubblicità eravamo arrivati a tutti quei vocaboli nuovi che ogni mese spunta un nuovo problema che fino a un po' di tempo fa era tutto messo nel cassetto di porca miseria mi è andata male pensavo fosse una brava persona invece no adesso è tutto iper specifico ghosting orbiting l'amore è tossico è tutto tossico l'amore è tossico le amicizie sono tossiche il posto di lavoro è tossico tutti narcisisti Maurizio è un tossico sono tutti narcisisti abbiamo scoperto il narcisismo prima mai esistito adesso tutti così Marta parto da Valeria che ci fa un po' la spiega professionale e poi mi dici quanti ne hai incontrati nella vita escludendo me escludendo me se pensiamo a tutte queste parole di fatto sono tutte descrizioni dell'altro cioè spostano la responsabilità sull'altro non stanno su di sé per cui è lui che è sbagliato è l'amore che è tossico mi ha fatto ghosting orbita intorno ai miei social ma quando si parla di noi invece perché questa cosa non ritorna su di noi e soprattutto come dicevi tu prima ridefinire un processo a partire dalle parole ha un senso ma in questo caso è un senso che non ci dice niente della relazione di per sé non ci dice di come avvengono le cose ogni situazione è a sé stante ma se noi ridefiniamo la parola tossico per una relazione umana che nulla centra con la tossicità siamo veramente fuori strada noi ne parlavamo spesso con la dottoressa Stefania Andreoli e rientro un po' secondo me in questo campo del bullismo da quando il termine bullismo è stato completamente sdoganato diventa che ogni presa in giro a scuola è bullismo e lei ci spiegava che il bullismo ha delle caratteristiche di reitera tezza reiterazione trapari di reiterazione trapari cioè è una cosa che ha bisogno di caratteristiche specifiche esatto per essere definito altrimenti diventa che la prima volta che uno torna da scuola mi hanno detto cretino fanno bullismo a mio figlio in queste cose immagino sia la stessa dimensione assolutamente prendiamo l'esempio del narcisista il narcisismo è un disturbo di personalità che ha delle caratteristiche per cui si possono avere dei tratti narcisistici ma dire all'altro che è un narcisista solo perché ci ha mandato un po' a quel paese o perché si è fatti i fatti suoi o ci ha tradito per quanto si possa essere arrabbiati però non è narcisismo il ghosting non mi risponde e vabbè si rischio che diventi un po' un trend che se non ce l'hai infatti adesso devi avere ghosting l'orbiting 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 che cos'è vuol dire è uno che ci sono tanti però che fanno orbiting è uno che non ti risponde più su whatsapp se lo chiami non ti risponde però ogni volta che una story se la visualizza immediatamente prima degli orbiting quindi non fa veramente parte della tua vita ma continua un po' a girare intorno cioè capisci che ti sta tenendo doppio sono i classici ex che vedi tra i primi dieci che visualizzano le story insomma è un po' questa roba ti mettono i like esatto il like di mantenimento si chiama così ma tu le hai fatte tutte quindi per quello sei no certo ma prima era una roba esatto prima ovviamente dal fatto che c'è sempre stata questa cosa tu le hai mai fatte anche tu sì certo quella domanda che ci facciamo anche io e Valeria che non è che sono solo gli altri cioè facciamocele noi anche queste domande perché poi tante volte sei tu che puoi rientrare all'interno della definizione del narcisista eccetera sì poi appunto più le rendiamo comuni più è probabile che riguardino anche noi assolutamente allora ci sono arrivate un po' di domande ve le giro così proviamo a dare un po' una ridefinizione dell'amore a settembre nel mio ufficio è arrivato un nuovo responsabile e flortiamo parecchio con ottime ripercussioni sulla mia rendita lavorativa quindi fa anche bene al lavoro sono sempre allegra e piena di energie mi chiedo se sia il caso di proporgli un appuntamento lasciare la situazione così com'è tenendo conto che è il mio capo urca qua ci sono tanti fattori quindi lei va a lavorare non è successo niente con questa persona però solo il fatto di flirtare come quando andavamo a scuola quando c'era una che ti piaceva andavi a scuola più felice quindi va a lavoro più contenta lei dice lascio la situazione così o approfondisco perché se poi approfondisce e questo ti fa ghosting ti fa orbiting eccetera e ha potere ah giusto perché c'è anche il tema del tuo capo che quindi ha potere cosa succede bellissimo come se ci fosse un consiglio noi facciamo così il giovedì prendiamo pezzi di vita importanti della gente con una superficialità incredibile gli diciamo cosa devono fare però smonti tutto il mio lavoro sui social io cerco di fare domande e non di dare risposte lineari no valuterei la questione del potere che mi sembra la cosa più importante in questa situazione perché poi dopo lei ci deve stare con questa persona poi la loro relazione prosegue quindi che connotati ha questa cosa poi chi poi ne paga le conseguenze nel caso in cui poi vada male come vengono gestiti i cocci di questa di questa relazione cioè si è anche in grado di poi superarla in maniera chi lo sa chi lo sa tu ascoltatrice lo saprai quali sono le caratteristiche risponditi da sola ho 26 anni ho un fidanzato da quasi 6 lui è davvero pieno di qualità ma mi sembra di essere sempre fermi allo stesso punto ad esempio non si parla mai di andare a vivere insieme e ci vediamo per lo più nel weekend dovrei lasciarlo che domandona lui è un milanese lui è milanese sicuramente sicuramente tiene lì e dice magari stasera vado a fare l'aperitivo io ne trovo un'altra ma non lo so la domanda è dipende cosa vuoi tu cioè stai bene lì così ad aspettare oppure no se non stai bene valuta magari ma poi soprattutto vorrei andare a vivere insieme dovrei lasciarlo ci sono esistono delle cose poi 26 anni ma infatti dico un'altra cosa che forse potrebbe andare contro non questo libro nello specifico ma un po' in genere come dicevi tu nel mezzo c'è una serie infinita di cioè non è tutto bianco o nero e soprattutto la risposta è quasi sempre e beh lo saprai tu cioè dipende come mai da un lato è tanto chiara questa dimensione dall'altro negli ultimi anni appunto c'è sempre più intervento di esperti contestualizzatori di situazioni così se poi alla fine la risposta è quasi sempre beh cerca di capire guardati dentro parla con te cioè come diceva quello la risposta è dentro di te però è sbagliata però è sbagliata però la risposta è un po' sempre dentro di noi guarda faccio il discorso che facevi prima del quartierino del condominio lo faccio un po' con la mia esperienza professionale che insomma statisticamente come dire ha una piccolissima percentuale nel mondo scientifico però mi sembra di osservare il bisogno di avere delle coordinate cioè di disorientamento di una marea di informazioni e anche una marea di possibilità di libertà quello che dicevi tu prima viviamo in questa società in cui tutto è più possibile rispetto a prima perché abbiamo una conoscenza maggiore ma questo determina molto spesso l'incapacità di trovare anche di rischiare un po' di trovare la propria definizione la propria strada per cui se chiedo se ascolto se pedissequamente imito e ripropongo quello che mi è stato in qualche maniera raccontato poi forse sto facendo giusto però torniamo lì perché io non posso pensare di poter anche lavorare su di me e capire che cosa da dove arrivo cosa mi serve cosa voglio poi magari gli altri li ascolto ma anche per ispirazione posso prendere perché no poi magari anche leggere mi fa bene però caspita se non parto da quello che sono io difficilmente poi riesco a muovermi giusto posso sparare la situazione perché Simone de Beauvoir diceva una cosa molto bella cioè Simone de Beauvoir la filosofa esistenzialista diceva quella che stava con Sartre non c'è più non c'è più esatto sarà anche passata miglior vita lei parla tanto di libertà una donna libera non è per niente una donna facile cioè in realtà è molto più difficile dover decidere per te cioè il fatto che sai che ti devi sposare c'hai questa altra tappa è quasi più facile perché sai cosa devi fare adesso non dobbiamo più fare una serie di cose però ci ritroviamo in una contemporaneità in cui non sappiamo cosa fare questa è la grande domanda vero vero mettiamo ancora un disco e poi andiamo avanti anche un po' sullo storytelling dell'amore su come viene proprio raccontato l'amore perché credo sia abbastanza normale plasmare non solo l'amore proprio la vita in generale in base a come la vita ci viene raccontata in base a come l'amore ci viene raccontato cioè cerchiamo di tirarne fuori quello che possiamo è cambiato il modo di raccontare l'amore nelle canzoni nei film insomma nei media ma sì allora io sono cresciuta di così per Titanic e Notting Hill e quindi costruirsi un'idea realistica dell'amore è un po' impossibile quando hai di fronte queste meravigliose commedie romanche c'è l'amore dei film fino a un certo punto era destino era un po' era salvifico era salvifico era proprio l'idea un po' della fiaba fortunatamente adesso le cose fortunatamente sfortunatamente dipende cosa ti piace però è vero sono un po' cambiate se ci pensi le serie televisive più seguite dalle ragazze sono Fleabag per esempio di una ragazza che un po' si salva da sola Mrs. Maisel che è una delle mie preferite anche lei è una ragazza degli anni 50 che a un certo punto viene lasciata dal marito e poi ritrova se stessa facendo la set up con Median ed è cambiata la narrazione cioè va incontro un po' a questa cosa qua del trovare il modo di piacerci abbastanza di costruirci e poi magari trovare qualcuno che ti piace davvero con cui stare insieme e accompagnarsi non per forza che nell'idea del cavaliere della principessa ti deve salvare hai altro da aggiungere no l'altra cosa che volevo capire è secondo voi che tipo di effetto hanno avuto i social network nelle storie sentimentali noi parliamo tantissimo di Tinder sul libro nel libro l'avete usato? l'avete mai usato voi Tinder? avete fatto in tempo? Marta l'hai mai usato? non proprio Tinder un altro social sì comunque incontri io ho usato si Bumble ma non so c'era meno gente ma è divertente cioè io l'ho usato poco perché poi dopo ho incontrato la persona con cui poi ho fatto un figlio quindi era difficile però insomma la cosa incredibile è che poi ho trovato persone si pensa che chissà che cosa succedano invece in realtà ci sono persone normali che sono alla ricerca di qualcosa è un agevolatore di occasioni per incontrarsi però questo effetto strano che poi sortisce quasi un senso di colpa su chi lo usa come dire è l'ultima spiaggia soprattutto le generazioni un po' più le nostre no però io in realtà ho dovuto è un po' come dire no sono arrivato lì e quasi non lo se scoppia l'amore difficilmente poi raccontano che è stato su Tinder come se ci fosse una certa reticenza noi in radio nel nostro pubblico abbiamo da anni proprio gente che si è conosciuta ai tempi ancora sulle chat esatto cioè su internet in quel senso lì sui forum sui blog così poi hanno iniziato a raccontarsi ed è un amore diverso rispetto a quello che nasce vis-a-vis è semplicemente più accelerato la cornice in cui ci si muove è già una cornice dove togli tutta la parte di conoscenza ci incontriamo ci vediamo ci scopriamo se è interessato a me o meno con Tinder è abbastanza semplice ci diamo un appuntamento e poi vuol dire che lì qualcosa accadrà poi a vari livelli ma quando si parla di social e amore di solito si intende sempre amori cominciati con i social i social però ne fanno anche finire più di prima cioè nel senso ti aiutano a iniziare però in maniera esponenziale ti aiutano a farli finire perché comunque è un terzo all'interno della relazione c'è la possibilità di non controllare molto spesso il palcoscenico su cui stai e su cui si muove l'altro e quindi poi c'è anche un pubblico che magari all'interno di un'altra relazione che non si muove sui social invece difficilmente c'è quindi ha questo gioco proprio di ritmo diverso propone un ritmo diverso alla relazione sì oppure anche di controllare troppo cioè seguire la persona esattamente tutto quello che fa soprattutto all'inizio di una relazione uno ha la sua vita e va avanti perché devo avere qualcuno che mi controlla costantemente su quello che devo fare quindi altera forse un po' anche questa fase di conoscenza maurì guardo te con gli occhi a punto interrogativo disco sì disco ok allora vi salutiamo ragazzi siete proprio brave 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 un piacere avervi ascoltato Marta Perego Valeria Locati la verità è che non ti piace abbastanza lo trovate in libreria ridefinire l'amore a partire da noi grazie mille grazie